Vieni, vieni tutto, dai! Fallaci dare in sta palla! Dai, dai, vieni! Guarda, guardami in mezzo! Ahai, mi ragazzi! E' un'esempio, non è che! Non è che! No, è abbastanza entusiasmante! È finita, arbitro! Due minuti! Ma perché ha sentito dire fineardi? Guarda bene! Oh, ma qualcuno va! Ma come va? No! No, questo è proprio il foglio, me le interrazio è strano! Ora che mi chiediamo un pallone, c'è un impatto dolore! No, è questo perché... Tu spretti, no? Vimmino bene! Oh, ioommi! Ecco... Non mi sembrava un go questo è però. No, no, le figure. Che cosa ti danno? Un po' di chi è? E' finita, arbitro! Capu! Capu è finita! Capu è finita. Capu è finita! No